C'è un oggetto laggiù in fondo, bottiglia Cosa era questo? Si dice che c'è un oggetto lì Come? Non di qui dice, l'altra qua sarebbe C'è una bottiglia lì però C'è un coil dietro a poter c'è chiudo Avevo visto giusto allora C'è un oggetto davanti, sono le bottiglie Cosa? Guarda la spalla Cosa? Cosa, guarda qui Cosa? 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 Ah, fai a bittà! Cosa qui ora poi dice Beh, c'ho fuori cosa, c'ho fuori E che è stato Cosa? 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 Ah, c'è un oggetto Cosa? Non prendo Non ho preso la vede di me qui niente Questa fuori Questa fuori Ok Onestamente col generatore siamo già a posto Ascoltami molto bene Adesso Prendiamo questa roba e la buttiamo qua giù, no? Ok Poi Mi serve che mi fa un favore Poi io ti mo Cioè Poi mi dai il walkie talkie Stiamo pianificando Torno dentro Eh Sì Quando prendo il generatore Quando prenderò il generatore La porta del coil si aprirà Quindi devo correre E mi serve il walkie per farmi dire da te o quando è vicino Ok Ehm Però dice che c'è ancora tanta roba oltre questo Non so Non so C'è C'è Non so quanto ci conviene rischiarci Cacchio Mi ha fatto accadere un po' male quello Cacchio Mi ha fatto accadere un po' male quello Tor ce la vuoi? Ehm Sì Sì E diventa buio quando stacca il coso Un attimo Ok tu incomincia a portare tutta la roba Posso buttarmi? Sì sì Piano piano Ok ti spiego il piano Teo Doris incomincia a portare tutta la robaccia che c'è lì Che è molta Io Torno dentro Vedo che cosa Vedo che cosa posso Portare velocemente fuori Ok E poi dopo mi serve il tuo aiuto Perché quando prendo il core La porta del coil si apre E devo correre Lo vuoi prendere? Lo debbiamo prendere Perché? Perché sono ludopatico Segui il tubo Doris Ok E poi lo segui all'indietro Ok Io entro dentro eh Guidami Ok C'è già un mob davanti te E' il tamper Ok beh Allora niente Ciao Ho dato la mia pala a Doris Purtroppo Eh allora niente Ok Facciamo così Provo a prendere il core Pasqui Non so neanche dov'è Entri c'è quello No Ti giuro È lì 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 aspetta guardalo sì sì lo sto guardando che paura stai lì prendo prendo due cose e andiamo via vieni spesso qui a chi lui era chi a te lo so se ci vado vicino mi ammazza lo scopriremo no allora no fermo fermo it's over it's over beh io sono stato stai fermo fermo e rifermo la merda era di disastro stai fermo stronzo e mo e mo e mo e finita penso non sia finita è un po relluso su ca madonna ma intero è qua fuori eccolo eccolo l'ho visto dove non lo so è morto è morto si è dissolto non lo so non è qua ragazzi è morto ce l'avete fatta no vabbè let's go e mo e mo bo ma divertente fare il salto con te ma no vabbè ma momento marci momento marci momento marci non è vabbè 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 a ok devo però trovare il gas adesso ok attimo ci son quasi trovate il gas ok 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 se fate la cura in fretta attenzione la mina si può passare Dove sei? Sei a sinistra? Sì, sei a sinistra Ok, vedo Attenti alla mina Grazie Mi ha fidata a Paula Vediamo quanto ho Ma tu che mi hai in mano? Aspetta Abbiamo fatto la roba di una Ah, troppo caldo No, smettiammi da fastidissimo Vabbè, è una chiave Ah, ok, ho capito dov'è danni Ah, ok Ah 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 Ci trovo Non mi cazzo sei Posso qui? Non mi cazzo sei La torretta è lì Sì la spring è Cos'è? Sì la spring è difficile Quindi dove lì? Lo senti anche tu Dice di andare e che la tiene disattivata Ah fuck Dorit dimmi che sei vivo Non ero vivo Mi sono cregato malissimo Ero in mezzo a tre nemici E ho girato l'angolo e sono finito da tirare la torretta Ci sta Ci sta È la visotteo che sta facendo una suicide run Ok Ok Dani torna alla nave Io sto facendo una suicide run per vedere cosa riesco a fare Ok Augurami buona fortuna Godspeed Ho cambiata idea Ho la bambina fantasma Corri Grazie.